I caduti del grappa sono stati abituati a ben altro. Hanno conosciuto la battaglia, la morte in combattimento, la celebrazione retorica e anche, per fortuna, l'onore e il rispetto che i cittadini gli hanno tributato da oltre un secolo. Ma questa non l'avevano ancora sentita. La segnalazione ci arriva da un telespettatore che scrive, con grande sorpresa, aprendo che la cerimonia della deposizione della corona d'alloro sacrario di Cimagrappa si svolgerà giovedì 31 ottobre, proprio il giorno di Halloween, fa notare. Tradizionalmente da diversi lustri veniva deposta il 2 novembre, che sia dolcetto scherzetto o la tradizione si chiede muore con la fine del centenario. I caduti del grappa, conclude, forse non sono d'accordo. Ora, per noi, non si scherza con i caduti e quindi ci siamo informati da fonte certa. Il motivo dello spostamento è perché la città di Bassano vuole celebrare il 4 novembre e di conseguenza ha anche il grappa e ha pertanto chiesto di spostare la cerimonia che si svolgeva al sacrario. Insomma, una sorta di scippo nei confronti dell'enorme simbolo della battaglia, fatto proprio dalla città che si gloria del suo nome. Fatto dalla città, ricordiamo anche, Bassano, che non è stata neppure in grado di restaurare il suo disacrario, il Tempio Sario, che giace negletto e triste con i cartelloni strappati, a ricordare quanto poco siano onorati i soldati che caddero per la patria. L'unica retorica che conta, al solito, è quella dei fatti.